Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come personalizzare la sensibilità su qualsiasi gioco ovviamente per quelli che hanno problemi a inserire il gioco su Logitech G Hub il programma che troverete in descrizione vi ho lasciato un link ovviamente qui vi spiego come inserire il gioco su Logitech perché certe volte lo fa automaticamente però Logitech G Hub non risponde mai su un gioco quindi per inserire il gioco su Logitech G Hub vai su impostazioni e qui aggiungi così il tuo percorso file del gioco e aggiungi il tuo programma exe trovi così il tuo programma dell'applicazione come puoi vedere questo è GTA lo apri e lo inserisci qua e stai certo che poi funzionerà e poi una volta fatto puoi modificare così la sensibilità sul tuo Logitech e ovviamente puoi anche switchare la sensibilità sul tuo mouse e questa volta a me funziona perché a me usava la sensibilità del desktop su GTA e quindi questa cosa mi dava veramente fastidio e se non ti faceva mettere il gioco potevi direttamente andare sulla personalizzazione del programma e aggiungere così il percorso file la cartella del gioco la inserisci e da lì in poi potrai modificare la tua sensibilità quindi ovviamente funziona questa cosa su qualsiasi gioco che riesce a sopportare così il programma Logitech G Hub adesso ti faccio vedere per esempio prendiamo un altro gioco Rust questo me l'ha fatto tutto automaticamente però se non ti funziona stessa cosa personalizzazione apri la cartella del gioco entri nella sua cartella e vai a trovare l'applicazione il programma exe del gioco ed eccolo qua e ci metto questo l'applicazione faccio apri e poi da lì in poi potrò modificare la sensibilità e switchando sul mio mouse quindi se questo video ti è stato utilissimo su come personalizzare la sensibilità su qualsiasi gioco oppure aggiungere il gioco sul programma Logitech G Hub se non ti funziona grazie a tutti per questa visione ragazzi iscrivetevi lasciate like se avete problemi commentate sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao